Continuiamo nell'esplorazione delle funzionalità dei fogli di Google per compiere calcoli con i numeri complessi. Dopo aver visto come creare un numero complesso, come trasformare gli angoli da gradi sessagesimali in radianti e viceversa, adesso andiamo a vedere come fare le quattro operazioni con i numeri complessi, sempre con l'aiuto del foglio di calcolo. Il foglio di calcolo che ho predisposto ha questa struttura che adesso illustro. Abbiamo una parte in alto qua, il rosso e il verde, dove inseriremo i dati dei due numeri complessi di partenza dei quali vogliamo fare le quattro operazioni e il foglio andrà a fare i calcoli per noi. Quindi abbiamo due numeri complessi o due rappresentativi di due fasori, ad esempio questo è il fasore F1 e il fasore F2, immaginando che si tratti di tensioni, qua è indicato l'unità di misura come volt, ma ovviamente questo non ha niente a che fare con le funzionalità del numero complesso. Quindi per ognuno dei due fasori noi in realtà abbiamo soltanto due caselle dove andare a inserire i dati. Sto immaginando di avere i due fasori di partenza espressi come modulo e fase, quindi come valore efficace e fase, se parliamo di tensione o di correnti, oppure in generale se stiamo parlando di semplici numeri complessi non rappresentativi necessariamente di una grandezza sinusoidale elettrica, avremo il modulo del numero complesso e l'argomento del numero complesso, il suo angolo caratteristico. Quindi noi dovremo andare a inserire questi due valori per il primo numero complesso da questa parte e per il secondo numero complesso da questa. Questo ovviamente sarà l'M2. Allora, iniziamo a dare i numeri di partenza sui quali iniziare a lavorare. Diamo ad esempio come modulo 10 del primo numero complesso come argomento in gradi sessagesimali, ad esempio 45 gradi. Sappiamo che i fogli di calcolo lavorano con i radianti, quindi andiamo subito, come prima operazione, a trasformare il nostro angolo argomento del numero complesso da gradi sessagesimali in radianti. Quindi vado, ingrandisco la funzione in modo che sia evidente quello che vado a scrivere. Quindi inizio a scrivere la mia funzione. So che per trasformare in radianti devo prendere la cella dove l'angolo è espresso in gradi, quindi questa, la B3, moltiplicarlo per P greco, P, punto greco, la funzione interna del foglio di calcolo e dividere ancora per 180 gradi. In questo modo ottengo l'angolo espresso in radianti 0,785. Qua il numero di cifre decimali sappiamo che lo possiamo gestire attraverso l'apposita formatazione che mi dà il foglio di Google. Tre cifre decimali comunque sono più che sufficienti. Adesso per non dover ripetere nel secondo fasore ciò che abbiamo già fatto, facciamo semplicemente un copia e incolla dal primo all'altro e ovviamente il foglio di calcolo incolla anche le relative funzioni facendo slittare i riferimenti alle celle che non abbiamo bloccato nelle formule in modo analogo allo spostamento che viene fatto con l'operazione di copia e incolla. Quindi per vederne la funzionalità da questa parte proviamo a dare al modulo il valore 20 e all'angolo caratteristico qua il valore 30 per vedere come cambia di conseguenza il valore in radianti. Anche qua c'è un 1 che in realtà è un 2 e l'angolo del secondo fasore. Una volta che abbiamo i due fasori di partenza costruiamo i numeri complessi con le funzionalità del foglio di calcolo. Anche qui andiamo a ingrandire per vedere le funzioni che vado a scrivere ci ricordiamo che per creare un numero complesso ci serve la funzione complex del foglio di google gli dobbiamo indicare la parte reale e la parte immaginaria. Qua abbiamo una differenza rispetto al caso precedente perché non abbiamo esplicitato la parte reale e la parte immaginaria ancora ma abbiamo il modulo e l'angolo, l'argomento del numero complesso quindi il calcolo della parte reale lo possiamo fare direttamente all'interno della funzione complex quindi se io, il primo argomento della funzione complex è la parte reale quindi come determino la parte reale di questo numero complesso ne prendo il modulo e lo moltiplico per il coseno dell'angolo, del suo argomento, dell'angolo caratteristico vi ricordo non espresso in gradi perché in gradi sessagesimali perché il foglio non lavora nelle funzioni trigonometriche in gradi sessagesimali ma in radianti quindi vado a selezionare questa cella e ho a questo punto il primo argomento della funzione che creerà il numero complesso adesso vado a calcolare la parte immaginaria vedete il modulo era la cella A3 quindi qua posso ripetere la cella A3 per, in questo caso, il seno dell'angolo sempre in radianti e ho anche la parte immaginaria vedete nella parte superiore della funzione che sto componendo il preview, diciamo la visione preliminare di quello che sarà il risultato e già, mi fornisce già il risultato vedete parte reale più parte immaginaria vedete che qua viene utilizzata la lettera I come suffisso del numero complesso noi sappiamo e preferiamo utilizzare la J in elettrotecniche quindi lo scriviamo come terzo argomento della funzione complex il tipo di suffisso vedete che anche nel preview la I è diventata J confermiamo e otteniamo questo risultato se osserviamo il risultato notiamo che il numero viene riportato sia la parte reale che la parte immaginaria con una grande quantità di cifre decimali sicuramente non agevole per la lettura diciamo la nostra lettura purtroppo non ho trovato nessun metodo che consenta di ridurre il numero delle cifre usate nella rappresentazione a video ho provato con le funzioni di arrotondamento classiche ma non lavorano sulla rappresentazione del numero complesso perché viene visto come se fosse una stringa cioè una sequenza di caratteri e non un numero complesso vero e proprio quindi quel tipo di funzione non è efficace per ottenere questo risultato se qualcuno di voi riesce a trovare un modo elegante per ridurre il numero di cifre ci può aiutare postando un suo commento ritorniamo alla visione generale del nostro foglio vedete qua compare il numero complesso anche per il secondo fasore non sto a ripetere le stesse operazioni ma posso fare semplicemente un copia-incolla e il numero complesso viene determinato adesso a partire dai dati delle celle sovrastanti perché ripeto facendo il copia-incolla delle funzioni presenti in una cella se i riferimenti alle celle sulle quali opera la funzione non sono bloccati con i dollari che ne identificano il blocco quando noi incolliamo in un'altra cella la formula che stiamo prelevando da una tutti i riferimenti alle celle utilizzate vengono traslati allo stesso modo quindi in questo caso siccome la struttura del foglio le due parti fasore 1 e fasore 2 sono simmetriche e contengono gli stessi dati la stessa tipologia di dati nelle stesse posizioni ecco che la formula che vado a copiare è già perfettamente funzionante se voglio fare una verifica così veloce basta che riporto per il fasore 2 gli stessi dati del fasore 1 per vedere che ottengo identici risultati adesso per comodità preferisco fare in modo che questo numero di cifre decimali dei due numeri complessi siano ridotti per avere una visione immediata dei risultati che andremo a ottenere semplicemente perché sarà più comodo per noi verificare che i risultati siano congruenti da quanto noi sappiamo dalle operazioni con i numeri complessi come faccio a riportare questi risultati scelgo opportunamente il modulo l'angolo e l'argomento dei numeri complessi di partenza per ottenere una rappresentazione cartesiana del numero complesso che abbia un numero minore di cifre andando a ottenere dei numeri interi in particolare questo ci riesco se io divido per radici di 2 il modulo del numero mantenendo l'angolo sessagesimale a 45 gradi vedremo che il risultato che ottengo è quello che voglio quindi faccio vedere qua invece di mettere un semplice valore 10 faccio un piccolo calcolo io prendo quel esempio il modulo 10 immaginandolo come se fosse l'ampiezza della sinusoide la divido per la radice di 2 vi ricordo che per i fogli di calcolo la funzione radice quadrata è rad q metto il 2 della radice che vado a calcolare e vedete che il modulo qua adesso è diventato 7,07 approssimato vedo solo due cifre decimali ma il numero complesso è a parte reale e immaginaria entrambe intere quindi molto più semplice da leggere stessa cosa facciamo sul secondo numero anche qua invece di dare 10 diamo ad esempio 20 scriviamo la funzione 20 diviso radice quadrata di di 2 e otteniamo sempre con un angolo di 45 gradi sessagesimali otteniamo il fasore doppio rispetto al fasore e1 quindi 10 più j10 nella parte inferiore del modulo abbiamo quattro zone simmetriche nella prima calcolo la somma dei due numeri complessi di partenza nella seconda la differenza nella terza la moltiplicazione e nella quarta la divisione quindi andiamo a calcolare la somma dei due numeri complessi di partenza andiamo grandisco perché sia evidente ciò che vado a scrivere riusciamo anche a vedere forse le celle per intero comunque fare in modo che lo vediate quindi andiamo a scrivere la somma vi ricordo che le funzioni per operare su numeri complessi abbiamo scoperto nonostante l'help online di google di cal contrario che sono tutte funzioni che iniziano con le due lettere i m come l'iniziale di immaginario i m adesso dobbiamo fare la somma se io procedo con s mi propone una serie di alternative scoprirò che la somma è im sum im sum vedete somma di due numeri complessi quindi mi chiede semplicemente di indicare quali sono i due numeri complessi adesso ve lo faccio vedere riallargando seleziono la cella dove è presente il primo numero vedete che io ho selezionato una cella unita di tre celle il foglio di google mi fa vedere la selezione soltanto della prima delle tre celle unite ma questa corrisponde ad aver selezionato il numero complesso che mi interessa quindi questo 5 più 5 j poi metto punto e virgola per separarlo dal secondo numero complesso vado vedete anche se clicco sul secondo dove c'è scritto 10 più j 10 in realtà l'evidenziazione si sposta sulla prima cella unita ma il risultato è lo stesso andiamo a ingrandire in modo che vediate cosa ho scritto vedete in sum la funzione che esegue la somma di numeri complessi ho selezionato la cella dove è presente il primo numero punto e virgola la cella dove è presente il secondo numero vedete qua nell'anteprima del risultato capisco che è già corretto perché avevo 5 più 5j sommato a 10 più 10j sappiamo che nella somma dei numeri complessi espressi in forma cartesiana si sommano le parti reali per ottenere la parte reale del risultato quindi 5 più 10 15 parte leale e allo stesso modo si sommano le parti immaginarie 5j più 10j 15j chiudo le parentesi e vedete che il risultato è quello che mi attendo è stato molto semplice calcolarlo andiamo a calcolare la differenza allo stesso modo in questa cella vado a calcolare seleziono la cella scopro che in sub come fa la differenza tra due numeri complessi seleziono devo selezionare le due celle ne vedo parzialmente una comunque clicco vedete che è la A4 che vedevo anche prima punto e virgola il secondo numero dal quale devo sottrarre D4 vedete che anche qua l'anteprima mi preannuncia un risultato corretto sarà la differenza delle parti reali mi dà la parte reale del risultato la differenza delle parti immaginari mi dà la parte immaginaria del risultato confermo abbiamo ottenuto facilmente la differenza dei due numeri complessi supponiamo di di questo risultato di volerne avere anche la rappresentazione polare come modulo e argomento vedete ho predisposto la parte inferiore di ognuna delle operazioni con appunto tre caselle dove andare a calcolare il modulo del risultato l'argomento del risultato in radiante l'argomento del risultato in gradi sessagesimali più comodo per la nostra lettura quindi andiamo a calcolare l'argomento no scusate il modulo dicevo quindi la formula è uguale im abs vi ricordo che calcola il valore assoluto di un numero complesso che sarebbe il suo modulo quindi seleziono gli dico di quale numero complesso in questo caso a6 è una funzione che si aspetta un solo parametro solo un solo numero complesso ecco qua il modulo di 15 più g 15 quindi sarebbe se volessi verificarlo dovrei fare la radice quadrata della somma dei quadrati provate a fare la radice quadrata della somma di 15 al quadrato più 15 al quadrato vedrete che il risultato è questo calcoliamo adesso l'argomento sempre con le funzioni interne e l'argomento lo calcolo sempre con le funzioni im arg argument restituisce l'argomento gli dico di quale cella calcolato e in un attimo abbiamo il risultato senza fare uso delle funzioni trigonometriche in questa cella andiamo a calcolare il valore dell'angolo in gradi sessagesimali quindi ormai abbiamo capito come fare prendiamo l'angolo in radianti lo moltiplichiamo per 180 e lo dividiamo per pi greco ed ecco che ritornano i miei 45 gradi anche di questo numero complesso perché vedete il fatto che sia 45 gradi è chiaro perché parte reale e parte immaginaria sono uguali hanno lo stesso coefficiente quindi ci troviamo sulla bisettrice del primo quadrante del piano di Gauss quindi a 45 gradi dovremmo fare la stessa cosa anche per il numero complesso ottenuto facendo la differenza anche qui le formule sarebbero identiche quindi non faccio altro che fare un copia in colla rispettate la simmetria del foglio e vedrete che le cose si semplificano utilizzando gli strumenti adatti che ci mette a disposizione il foglio stesso qua il modulo è 5 vedete si capisce che è uguale quale parti reale immaginaria sono meno 5 meno 5 quindi il modulo di questo numero complesso è uguale però al modulo di 5 più 5j perché il modulo appunto mi dà valori positivi e quindi vedete che questo 7,071 a parte il numero di cifre decimali che vedo è uguale a questo se le aumento vedo lo stesso risultato anche qua andiamo a calcolare adesso il prodotto spostiamoci nella cella del calcolo del prodotto qua uguale per fare il prodotto scopro che l'operazione nella funzione interna è im pr product product per essere più anglofoni prendo il primo numero complesso che non ricordo le celle avevamo la A4 e la D4 come riferimenti quindi torniamo dove stavamo scrivendo e andiamo a scrivere A4 e D4 le celle del quale calcolare il prodotto e ottengo il valore 100 J come risultato giusto? allora che sia giusto lo possiamo scoprire subito se andiamo a vederne il modulo e l'angolo di questo risultato per calcolare il modulo e l'angolo riutilizziamo le formule già scritte che continuano ad essere valide anche qua un coppia in colla il modulo 100 vediamo cerchiamo di capire il modulo del prodotto lo ottengo facendo il prodotto dei moduli quindi qua i moduli erano 7,071 e l'altro era 14,142 almeno le parti visibili per fare un semplice calcolo di verifica se vogliamo toglierci il dubbio lo posso calcolare qua io posso prendere il modulo del primo fasore semplicemente moltiplicandolo per il modulo del secondo fasore vedete che il modulo che ottengo è esattamente 100 come quello che ho ottenuto con le funzioni interne di google questo se vogliamo fare gli scettici fino in fondo facciamo la stessa cosa per il calcolo del rapporto fra i due numeri complessi allora ricordiamoci che le celle sono A4 e D4 andiamo a calcolare la divisione in grandisco andiamo a calcolare qua quindi la funzione è im div intuitivamente diciamo con l'iniziale se arriviamo alla divisione fra numeri complessi gli dobbiamo dire quale è il dividendo che è A4 e quale è il divisore che è D4 e vediamo qua che otteniamo il risultato 0,5 tutto reale anche questo è corretto e deriva dal fatto che si tratta di numeri complessi che hanno parte reale e parte immaginaria uguali con il coefficiente uguale per quanto riguarda modulo e angoli anche qua non faccio altro che fare il copia e incolla ed ecco ovviamente il modulo coincide della parte reale con il modulo calcolato l'angolo in radianti così come l'angolo in gradi sessagesimali è 0 anche questo è coerente col fatto che il numero complesso in questo caso ha soltanto la parte reale 0,5 nel caso precedente del prodotto abbiamo che il risultato era tutto immaginario 100 J e quindi vediamo che l'angolo espresso in radianti diciamo al nostro occhio non ci racconta niente di particolarmente che ci ricorda qualcosa ma quando vediamo i 90 gradi dell'equivalente sessagesimali capiamo subito che quest'angolo calcolato è corretto essendo questo numero complesso immaginario puro quindi si trova a giacere sull'asse delle ordinate del piano di Gauss abbiamo visto come lavorare con i fogli di Google ma non esiste solo Google per fare queste operazioni vi volevo far vedere un altro strumento gratuito che abbiamo a disposizione che è LibreOffice che vi propongo è una suite di programmi per videoscrittura fogli di calcolo presentazioni e database diciamo per capirci l'equivalente di Microsoft Office la differenza fondamentale è che di LibreOffice noi possiamo avere una licenza d'uso originale gratuita possiamo scaricare il software originale senza correre rischi con software sconosciuto che non sappiamo cosa andiamo a installare molto probabilmente andiamo a installare dei virus o peggio nel nostro computer scaricando pacchetti con licenza proprietaria pagamento aperti in qualche modo la suite LibreOffice ci fornisce tutto ciò che ci serve a livello professionale possiamo usarla liberamente aggiornarla e mantenerla aggiornata nel tempo vi faccio vedere rapidamente le stesse funzioni fatte con LibreOffice cambiano soltanto i nomi delle funzioni da utilizzare e scopriremo che i nomi che utilizza LibreOffice coincidono stranamente con quanto indicato nell'help online di Google che invece non è efficace sul suo foglio di calcolo basta chiacchiere diamo dei valori al modulo del primo fasore M1 come prima diamo anche qua un valore che ci aiuti con la rappresentazione del numero complesso quindi anche qua scelgo un'ampiezza e divido per radici di due anche in anche LibreOffice come nella gran parte dei software la radice quadrata radq almeno quelli che hanno le funzioni tradotte in italiano vedete che l'help cambia la forma grafica ma fornisce le stesse informazioni quindi seleziono radq gli do la radice di due ecco qua il valore qua compaiono riduciamo il numero di cifre decimali facciamolo su tutto il foglio così non andremo a ripeterlo ecco qua stiamo riducendo limitiamoci a tre cifre decimali senza però perdere cifre significative interne nel foglio di calcolo anche qua diamo 45 gradi sessagesimali andiamo a calcolare gli angoli in radianti stessa operazione prendiamo il valore in sessagesimale lo moltiplichiamo per P punto greco vedete che viene rispettata la stessa sintassi lo stesso nome per scusate diviso 180 ed ecco che ritorna lo 0785 che ci stiamo abituando a vedere riconoscere come angolo irradianti del il valore 45 gradi sessagesimali anche qua possiamo fare un copia in colla e ottenere lo stesso risultato che avevamo prima se vogliamo anche qua cambiare invece che usare 10 diamo anche qua 20 come come modulo così abbiamo calcoli gemelli rispetto al foglio di google e qua andiamo a scrivere il nostro primo numero complesso il il comando è simile il vantaggio che abbiamo in library office è che almeno da quanto ho visto io completamente tradotto in italiano il nome delle funzioni interne quindi vedete che la funzione che calcola il numero complesso si chiama complesso quindi ci è agevola dobbiamo dargli anche qua vedete ci chiede la parte reale come il primo argomento quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il caso dei fogli di google quindi andiamo a prendere il modulo lo moltiplichiamo per il coseno dell'angolo in radianti abbiamo il primo argomento della funzione complesso poi di nuovo andiamo a prendere il modulo lo moltiplichiamo per il seno del del nostro angolo in radianti sempre e diamo anche qua il suffisso j ed ecco che abbiamo ottenuto come nel foglio di google il numero complesso nativo diciamo in formato foglio di calcolo facciamo anche qua un copia in colla per sul secondo numero complesso vediamo come andare a fare la somma credo che non ci sorprenderà scoprire che la la somma è data in questo caso da comp punto somma vedete che come inizia a scrivere comp le le funzioni interne di library office che lavorano sui numeri complessi iniziano tutte per comp la cosa è abbastanza intuitiva e mnemonica ci aiuta molto e poi la la parte operativa diciamo la la funzione che andiamo ad applicare sul numero complesso è separata da un punto quindi se vogliamo fare la somma è comp punto somma vedete che l'help già mi aiuta dopodiché non devo far altro anche qua che riportare le celle che sono rimaste le stesse rispetto anche al foglio di google quindi siamo sempre sulla a4 e sulla d4 ecco che ritorna quello che ci aspettavamo 15 più j15 adesso possiamo procedere un po' più rapidamente immagino che le cose vi siano abbastanza chiare se devo fare la differenza andrò a fare comp punto diff vedete che diff fa la differenza andiamo ancora a fare a4 meno di 4 e abbiamo il nostro meno 5 meno 5 ji andiamo a vedere le differenze per il calcolo dell'argomento qua per i due risultati ottenuti allora devo calcolare il modulo del numero complesso quindi andiamo anche intuitivamente abbiamo capito che le funzioni per i numeri complessi sono comp punto a me serve il modulo quindi proviamo a scrivere mod vedete che già compare l'help mi ha selezionato comp punto modulo gli devo semplicemente indicare qual è il numero complesso del quale calcolare il modulo eccolo qua andiamo anche a calcolare l'argomento quindi sarà comp punto arg vedete selezionato scelgo la mia la cella riconosciamo 0 7 8 5 andiamo a calcolare anche qua il valore in gradi sessagesimali quindi avrò l'angolo in radianti per 180 diviso P punto greco che ha già riconosciuto e otteniamo i 45 gradi che ci aspettiamo andiamo qua rapidamente a fare un coppia in colla facciamolo su tutte e 4 anche nella parte inferiore anche se qua vedete mi da degli errori ancora perché non ho il calcolo del numero complesso sul quale dovrebbe effettuare il calcolo del modulo e dell'argomento ma non ci preoccupiamo perché adesso andiamo a completare ciò che manca dobbiamo fare il prodotto secondo voi cosa dovrò fare sarà un comp punto adesso prodotto è proprio così è una buona traduzione in italiano quindi prendo i numeri di partenza che erano sempre nelle celle a4 e d4 ecco qua il 100j che già avevamo visto prima e vedete che adesso sono spariti gli errori nella fascia inferiore del modulo e dell'argomento perché adesso c'è un numero complesso sul quale queste celle quelle formule possono lavorare andiamo a completare anche per la divisione quindi abbiamo comp punto div divisione lo approssima lo lo ha ne fa una versione ridotta della parola div a4 di 4 05 reale come avevamo già verificato prima e vedete che abbiamo tradotto in un foglio di calcolo di LibreOffice ciò che avevamo fatto con il foglio di calcolo di Google sono assolutamente equivalenti la differenza che potete riscontrare è che i fogli di Google sono accessibili attraverso un browser e attraverso le funzionalità del drive di Google e quindi comunque accessibili da un qualunque computer o anche tablet anche se le funzionalità dei dei dispositivi più piccoli tablet soprattutto smartphone eccetera le funzionalità dei fogli di Google si riducono notevolmente si perde molto della facilità di utilizzo che abbiamo invece sul computer ma a parte questo quindi la grossa differenza tra i fogli di Google è la loro disponibilità attraverso un browser da un computer collegato in rete mentre invece LibreOffice è un applicativo che ancora dobbiamo installare nel nostro sistema operativo ma per il resto le funzionalità sono molto simili anzi LibreOffice proprio per il fatto di essere un applicativo installato in realtà ci fornisce anche più funzionalità rispetto a quelle che ci mette a disposizione Google attraverso la piattaforma browser c'erra Grazie.